Con il numero 33 Aridità, con il numero 2 Conson, con il numero 5 Mattia, con il numero 11 Troianello, con il numero 16 Vacinovic, con il 19 Valente, con il numero 21 Vallocchia, con il 26 Miracoli, con il 29 Damonti, con il numero 30 Tomi, con il numero 32 Patti. Grazie. Grazie. Grazie.